La scuola in Valsugana ai tempi del covid, positivi e classi in quarantena. In tre mesi di scuola in tutti gli istituti scolastici della Valsugana sono stati 599 i casi positivi segnalati. Da ottobre a dicembre dello scorso anno, secondo il report realizzato dal team Covid Scuola del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, questo è il dato raccolto tra gli 11.050 iscritti ai servizi e dagli istituti delle due comunità di Valle. I dati presi in considerazione sono quelli relativi alle scuole di infanzia con 2.330 iscritti, i 4.112 alunni della scuola primaria, quella secondaria di primo grado con 2.499 studenti e le scuole superiori. In questo caso gli studenti iscritti in Alta e Bassa Valsugana sono complessivamente 2.108. Nella comunità Alta Valsugana e Bernstall, a fronte di 7.515 iscritti, i casi di positività riscontrati sono stati 454, pari al 6,04%. Va un po' meglio nella comunità Valsugana e Tesino, dove a fronte di 3.535 iscritti e 145 studenti positivi, la percentuale scende al 4,1%. Sotto la lente dei ricercatori ci sono soprattutto le superiori, dove si sono registrati casi più numerosi di isolamento scolastico e di intere classi in quarantena. Per quanto riguarda il personale scolastico, infine, il tasso di positività è di poco superiore al 3%.